Ragazzi, buongiorno, mi sono svegliata alle due, non mi svegliavo così tardi da tipo, boh, l'inizio di quest'estate, fantastico, adesso vado a farmi la bella doccia e poi andrò a pranzare. Buonasera raga, allora ho un più o meno addosso, non perché io sia scema, cioè anche magari, però principalmente per nascondere il vestito di stasera perché andrò a una festa a tema Halloween e niente, sono molto proud del costume. Abbiamo dei costume pazzeschi, vi dico solo questo, questo è di coppia quindi. Sì raga, provate a indovinare. Diamo uno spoiler. Cartone animale. Hai già detto troppo raga, provate a indovinare. Comunque io oggi non mi sono fatta sentire per niente perché ho dormito tutto il tempo, cioè vorrei dire di aver passato tutto il pomeriggio a cercare il costume di Halloween, in realtà mi sono ridotta tipo alle 10 di sera a cercare nel mio armadio, però questa cosa che sto indossando non l'avete mai vista, ce l'avevo già ma non l'avete mai vista. Vabbè, spero di stupirvi.